Musica Bentornati fratelli di tuberanza, siamo di nuovo su Call of Duty Black Ops 3 E niente rega, sto gioco purtroppo è destinato ad essere abbandonato più e più volte In che senso? Come esce un gioco nuovo? Prendo COD e lo metto da parte Quando finisco il gioco nuovo ritorno su COD Lui ovviamente mi riaccoglie a braccia aperte, logico, l'ho pagato E quindi ci diamo due bacetti, due abbraccetti Si fa la pace con dei risultati di merda, ammettiamolo Ma si torna a giocare a COD Quello lì signori miei è il mio specialista che è entrato di diritto e meritatissimamente negli Illuminati Facciamolo un applauso al mio specialista che è entrato da poco tra l'altro negli Illuminati E il casco ne è la prova, perfetto Sono un prestigio 4, livello 39 Grazie ai punti esperienza doppi di due settimane fa se non ricordo male Pensate, manco mi ricordo Comunque, a parte questo, torniamo nel menu Non so se ve l'ho già detto ma mi sono messo in testa un obiettivo Quello di sbloccare tutte le mimetiche per gli specialisti e per le armi Per quanto riguarda le armi ho già completato i fucili d'assalto E già ci siamo, non male Adesso mi mancano mitragliette, insomma tutte le altre robe Mentre invece per gli specialisti sto messo più di male Ok? Perché ho completato soltanto 3 o 4 personaggi Manco mi ricordo, pensate voi Comunque adesso ho iniziato lo spectre Poi farò tutti questi altri dietro che ho zompato Ma va bene così Che cosa faremo oggi? Una bellissima partita Si spera ma io non ci credo In veterano dominio La modalità preferita dei camperoni Perfetto Stiamo entrando in una partita In un match che deve ancora iniziare Io ho voto con... No, no, che cazzo è voto con Bile? Mi fa schifo Mi ha tirato tutti quei punteggi Comunque raga io mi sono avvicinato a questa modalità Principalmente perché si prendono punti esperienza molto facilmente Ma non solo Perché si sbloccano mimetiche per gli specialisti e per le armi Altrettanto facilmente Quindi per carità sta modalità vi fa bestemmiare come poche Perché ci sta la gente che si mette in un angolo E come passate vi schioppano Ok? E poi voi vabbè vi arrabbiate Lui sarà contento a fine partita Perché avrà fatto 25-4, 25-5 Ma non sa che ha la mamma zozza Capito? Quindi raga mi raccomando non camperate mai Perché è meglio non camperare e morire Che avere una mamma zozza Avvio tra 3, 2, 1 Via Eccoci qua Dominio veterano a combine Utilizzeremo il faro oggi Poi vedremo Vale che va Prenderemo il weevil Insomma sempre mitragliette Perché devo assolutamente fare i colpi alla capocchia Vai partiti Aspetta ora che poi raga c'ho pure il pad rotto Praticamente va Vedete che succede Quando corro a volte si blocca E quindi è un po' scomodo Aspetta mi pizzica la testa Ok adesso sono pronto per andare Passo da sotto perché almeno non me vedono Oh Dai ma come cazzo lo si fa a giocare in questo modo Ti piazzano i Eh ci ho provato Sapevo che sarebbero rispawnati qua Aspetta Boni Uno Oddio 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 mio Mi è passato il proiettile regalo tra capo e collo Prendiamoci Ma figlio di puzzona Maledetto scornato Mi devo fare 200 punti C'ho l'UAV No non ce l'ho ancora Va a cacare No Come ho fatto Hitmarker No 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 Io ho fatto No è incredibile No 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 Vergognoso Hitmarker da quella distanza no Non ci sto proprio Oddio scusa Cazzo era un amico Olè Era lui che ha lanciato la mina a sto cane Merda 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 è ancora merda Non l'ho colpito Con un proiettile Mi pare strano eh Mi pare strano però Questo che gioca col pompa veterano Io raga penso che questo non è che c'ha la mamma putrefatta Di più Purifier negato Madonna Non ce n'è per nessuno Ma come l'ho Ma ha spawnato le spalle Ma vergognoso Vergognoso Uuuu Madonna dopo st'uccisione Bene posso pure andare Stiamo qua Stiamo Le loro spawn Buono Buono così No No Se qua mi salvavo Quello che combinavo 12-8 12-8 12-8 Ah è buono Buono Per essere Un risultato Dopo un botto di tempo Che non giochiamo È buono Oh là Se non se la smettono A piazzare Se cazzarola di mine No 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 Io non ci vado a piazzarlo Ho capito Guarda questo già come stava pronto qua Visto quei pezzi di merda Come stavano pronti lì Sti cavoli Non ci vengo Amico Attento eh Attento perché se passa qualcuno Schioffa a te con tutto quell'altro Perfetto Limite round No limite punti raggiunto Ho fatto la fusione Tutte le sopra Guardate questo che emblema Diciamo che giocare con l'M8 A veterano È un po' da bastardi Comunque Quando stiamo 16-9 Non è malvagio Regà Anche perché i miei amici sopra Stanno a fare 11-8 Anzi Sono quello che ha fatto Più uccisioni di tutti Prendiamo gli obiettivi Prendeteveli voi Perché a me 50 punti Non mi fanno la felicità Vediamo un po' se è dall'arriva Hit marker Hit marker E poi arriva un'uccisione Poi mi metto qui Ah 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 Codzian Attento fratello Che là ci sta uno Attento Eccolo qua Non c'è più nessuno Fratello Vai tranquillo Quello si mette giù fisso E a me mi fa girare le palle In una maniera incredibile Quindi adesso vi faccio il giro da dietro Se riesco Mori Guavi nemico in arrivo E questo non ce lo voleva No No 2 Mi bastava girare l'angolo Maledizione Vergognoso Vergognoso Quello è uno di quelli Che ha la mamma P***na No zuzza Vabbè Oh Ve l'ho proprio detto Senza piedi sulla lingua Guardate Questo mente mi fa morire Uh Uh Buoni 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 Qua Buoni Cioè allora Io sono entrato qua Il mio amico è andato dietro Possibile che quello dietro è morto Vedete raga Purtroppo Per giocare a COD Decentemente Ci vuole la squadra Capito Quelli che vi chiamano gli UAV Quelli che vi aiutano Che se prendete due direzioni diverse Quelli hanno un timore Perché se quello dietro a te vi muoie Vi muo Vi muoie Vi muoie Che cazzo di lingua è Comunque Vi muore Siete fregati Come nel caso Che avete visto poco fa Sta qua sopra Il porco Però io regà Non ci vado sopra Oh No E come fai giocare col pompa Veterano Ma ne manca un po' di vergogna C'hai Ah vabbè Allora quello è un Quello è un idiota Patentato proprio Sì 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 Pro patentato Non ti puoi assolutamente Mettere avanti Bastardo Ok Qua non c'è nessuno No No Oh feo Ho staccato tutto Non ci sono microfoni Fe 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 Uh Buoni buoni Aspetta aspetta Perfetto Adesso va bene Oh però che palle Vi togliete Eh Che uccisione ho fatto Uh Uh No Questo non l'ho visto Merda 28 18 Mica male Oh regà Mica male Uh Che uccisioni ragazzi Mamma mia Muoio Vabbè Uccido uno Muore Muoio Peccato Quello sotto Il primo loro Ha fatto 33 uccisioni Peccato Diciamo che Molte morti Avrei potuto Evitarle Raga Perché Vabbè Comprensibile Dopo un sacco Di tempo Che non giochi Ci sta che Perdi un po' Anche di sensibilità Sulle mani O sulle dita Magari Vediamo Eccoci qua Guardate a sinistra Quanto siamo fieri Adesso faccio subito Il vanto Madonna So King Kong Eccoci qua Ho sbloccato il coltello Facco bottiglia Ma so famiglia No Abbandona lobby Allora fratelli Questo gameplay È andato meglio Di quanto Immaginassi Perché comunque Vi ripeto Dopo un botto di tempo Che non gioco a COD Ritornare E fare un risultato Del genere Mi fa pensare Che tutto sommato La mano Non l'ho persa del tutto Non mi rimane Che darvi l'appuntamento Con il prossimo video Sempre qui Su Tuberanza Mi raccomando Con il prossimo video Ciao